Continuiamo con questa seconda parte, quindi a vedere sempre i diritti e i diritti del lavoratore. Il primo diritto dovere è l'obbligo di preavviso, l'abbiamo già detto, vero? Quindi, come sapete, in qualsiasi contratto di lavoro avete l'obbligo del preavviso, cioè non è che potete dire mi licenzio e domattina non venga a lavorare. Avete l'obbligo di garantire per un certo tempo dalle dimissioni la presenza sul posto di lavoro. Questo varia nel contratto insomministrazione e il numero dei giorni in cui siete obbligati comunque dopo le dimissioni ad andare a lavorare sono riportati qui. Cosa succede se voi non date il preavviso, cioè se voi portate le dimissioni e vi licenziate? Il datore di lavoro vi può togliere i giorni lavorativi pari al preavviso. Chiaro? Cioè se il preavviso è sette giorni e voi andate via senza preavviso, lui vi può togliere i sette giorni lavorativi. Chiaro? Quante sono i giorni di preavviso nel contratto di somministrazione? Sono un giorno per ogni 15 giorni di dimissione. Quindi, tre mesi, sei giorni. E sono fino a un massimo di sette per il gruppo C, dieci per il gruppo B, venti per il gruppo A. Che cosa vuol dire massimo? Vorrebbe dire se io ho un contratto di sei mesi, non sono dodici e sono di gruppo C, non sono dodici giorni ma sono sette. Chiaro? Più di sette no. Ok? Qual è il rapporto di controllo e ruolo? Voi avete visto l'APL è un contratto A3, il contratto di somministrazione è un contratto A3. È un contratto commerciale tra l'azienda per il lavoro e l'azienda su cui voi andate a servire, a prestare il servizio lavorativo. E' un rapporto fra voi e l'APL. Chiaro? Come avviene la gestione del vostro ruolo? Chi è che vi gestisce? L'APL o direttamente l'azienda? Allora, per quanto riguarda la responsabilità della sicurezza e la responsabilità della mansione, vi gestisce direttamente l'azienda su cui lavorate. Per quanto riguarda la parte disciplinare, quindi se voi vi comportate male, è gestita direttamente dall'APL. Ovvero, se l'azienda dove voi lavorate comuni all'APL un vostro comportamento disciplinare sbagliato, ed è poi l'APL che prende un provvedimento su di voi. Ok? Il lavoratore ha 20 giorni per impugnare il provvedimento disciplinare. Ok? Allora, poi, claudola sociale. Cosa succede? Se un'azienda dove voi prestati servizi attraverso l'APL viene in qualche modo ceduto o venduto, l'azienda ha diritto, così come ha diritto di portare con sé i lavoratori, ha diritto di portare con sé i lavoratori in somministrazione. Va bene? Quindi ha l'obbligo del mantenimento in organico in relazione anche a ciò che il bando prevede. Cioè, fa un esempio, no? Io c'ho la manutenzione all'ospedale. C'è un'azienda che fa manutenzione all'ospedale. Io vengo assunto attraverso l'APL, vengo somministrato nell'azienda che ha la manutenzione. Poi l'azienda che ha la manutenzione perde l'appalto e lo vince un'altra azienda. L'azienda ha vinto l'appalto all'obbligo di portare con sé i lavoratori dell'azienda precedente che già facevano manutenzione all'ospedale. Cioè, non può sostituire il personale con altro personale. Questo obbligo di portare con sé i lavoratori vale anche per i lavoratori somministrati, non solo per quelli a contratto diretto con l'azienda. Allora, retribuzione. Allora, voi avete visto una cosa molto importante, non so se l'avete colta nell'aspetto precedente, è che il contratto di somministrazione prevede comunque un pari livello, sia retributivo sia di manzione. Cioè, il contratto in somministrazione non è un contratto d'apprendistato. Quindi, il lavoratore che viene somministrato in un'azienda, viene somministrato con una manzione e svolge quella manzione in maniera professionale. Cioè, non è che è una sostituzione del contratto d'apprendistato. Cioè, se l'azienda ha bisogno di un ragazzo come apprendista, non ricorda la somministrazione, ma ricorda l'apprendistato. Ricorda la somministrazione solo per avere una certa flessibilità di manzione, o meglio, di carico di lavoro, ma non sulla professionalità. Obbligo dell'appl è quello di formarvi e di rendervi professionalmente idonei per svolgere una funzione all'interno dell'azienda che prende la vostra somministrazione, che vi prende in somministrazione. Cioè, compiere l'appl è formarvi per rendervi idonei alla manzione di quell'azienda ha bisogno. Chiaro? Questo è un po' il concetto. E anche il trattamento economico deve essere equiparato a quello dei dipendenti che l'azienda ha non somministrati, che svolgono la stessa funzione degli operari o dei dipendenti somministrati. Ok? Da questo punto di vista avete diritto anche agli stessi benefici, quindi ferie, e avete diritto anche agli stessi benefici nel senso, se nell'azienda dove voi andate somministrati c'è il welfare o un premio di fine anno, voi avete diritto a partecipare al premio di fine anno allo stesso livello del lavoratore, al vostro stesso livello. Come viene stabilito sia l'eventuale premio, sia la vostra esibuzione, in base alle ore di lavoro effettivamente lavorate. Ore ordinarie, ore straordinarie e turni. E contrattalmente dovuti. Va bene? Utilizzando il coefficiente divisore mensile, orario settimanale per 52 riso 12. Va bene? E quindi viene lo stipendio mensile. Ovviamente lo stipendio mensile è sempre uguale, indipendentemente se è febbraio o marzo, che hanno giorni completamente diversi. Allora, nel caso invece che siete turnista a Cilomontino, cioè entrate in un'azienda dove c'è il turnista, allora, se invece siete turnista, allora, le ore eccedenti alle 40 ore vi vengono comunque pagate. Le ore sotto alle 40 ore vi vengono comunque pagate come 40 ore. Va bene? Quindi se fate quella tornazione 38 ore, quel mese vi viene comunque pagato 40 ore. La retribuzione è solitamente mensilizzata, cioè viene pagata al mese, questo l'abbiamo già detto prima, cioè viene stabilito un compenso mensile costante. Se invece l'azienda vuole prevedere dei pagamenti diversi da quelli mensilizzati, li deve comunicare comunque e se previsti a livello di contratto nazionale lavoro, vengono ovviamente modificati sulla base dell'accordo nazionale, ma specificatamente in quell'azienda dove si fa e si segue una procedura diversa. Per il resto, ferie permesse di riduzione d'orario 13esima e 14esima vengono pagate sulla base delle ore effettivamente lavorate. Cioè se io lavoro il 50% delle ore ho diritto al 50% delle ferie, ho diritto al 50% della 13esima e 14esima se prevista, quindi ho diritto a una percentualizzazione delle effettive ore lavorate. Trattamento di fine rapporti, il famoso TFR. Supponiamo che voi siete somministrati in un'azienda che preveda il contratto di lavoro interrotto. Prima noi abbiamo parlato, no, di quanti rinnovi si può fare prima di dover passare a tempo indeterminato. Ecco, quello che mi piace precisare è che il contratto a tempo indeterminato può essere o all'interno dell'APL o all'interno dell'azienda dove voi prestate lavoro di somministrazione. Faccio presente, e questo mi piace precisarlo, che il contratto a tempo indeterminato nell'APL ha ovviamente tutela e diritti diversi, e dopo li vedremo, rispetto al contratto a tempo indeterminato dell'azienda vera e propria. Ovvero, come vedremo, se voi siete contrattualizzati a tempo indeterminato nell'APL, loro vi possono impiegare infinite volte su più aziende, chiaro, con periodi di lavoro che possono variare e soprattutto anche con aziende che possono variare. Cioè voi potete essere chiamati a lavorare in più aziende, chiaro, durante l'anno. in quel caso lì, voi siccome siete già stati assunti dall'APL a tempo indeterminato, decade tutto quello che abbiamo visto prima. Cioè se voi, se vi rinnovano, se una volta siete a contratto a tempo indeterminato, voi potete essere impiegati con contratti di somministrazione che possono variare di anno in anno o di due sei mesi. Come avviene però il trattamento di fine rapporto? Nel momento, il trattamento di fine rapporto nasce in base all'azienda dove voi lavorate, con i diritti dell'azienda dove voi lavorate, come abbiamo già detto. Cioè se voi lavorate in un'azienda dove vi fanno fare un lavoro e prevede uno stipendio di 1.400 euro per quella mansione, voi prendete 1.400 euro. Poi venite sposati in un'azienda dove il contratto di lavoro prevede uno stipendio di 1.200. Voi veramente variate lo stipendio. Automativamente si varia anche il trattamento di fine rapporto perché il trattamento di fine rapporto è calcolato, poi dopo lo vedremo, sulla base delle ore lavorate e sulla base di dove siete, ok? E di quale azienda lavorate, ok? Quindi a questo punto cosa succede? Il trattamento di rapporto quando vi viene liquidato, va bene? Quindi, solitamente se voi continuate a lavorare anche con contratti rinnovati nella stessa azienda, viene calcolato alla fine del periodo finché non si interrompe il periodo lavorativo in quell'azienda, va bene? Il contratto di lavoro, il TFR è dato da il compenso complessivo ottenuto in quell'azienda diviso per 13,5, vero? Cioè voi in quell'azienda avete maturato stipendi per 13.500 euro, il vostro trattamento di fine rapporto è 1.000 euro, va bene? Questo vi viene liquidato al termine del periodo di lavoro in quell'azienda non è termine dei rinnovi ma è termine del periodo di lavoro cioè finché vi viene rinnovato il contratto si accumula il TFR si accumula le attribuzioni solo alla fine quando cambiate azienda somministrata dovrà calcolare il TFR e vi verrà liquidato ok? Il TFR potete decidere o di riscuoterlo o di o che venga ceduto a un fondo di previdenza va bene? questa scelta va fatta entro il sesto giorno entro il sesto mese di lavoro nell'azienda chiaro? in cui siete somministrati se non fate una specifica richiesta il TFR viene automaticamente destinato a fonte che è diciamo una una previdenza integrativa va bene? come vedremo il fatto che voi cedete il vostro TFR a fonte ha dei piccoli vantaggi che ora dopo vedremo chiaro fare permessi e e diciamo permessi retribuiti il lavoratore ha diritto a tutti diciamo i permessi le fere come dal contratto di lavoro per quell'azienda va bene? ok? per poter usufruire le fere bisogna fare diciamo periodi di somministrazione superiore a tre mesi va bene? se invece si fa somministrazione minori di tre mesi ha diritto a un solo giorno di fere ok? ecco cosa succede in questo caso lo vedremo dopo nel caso del lavoratore venga destinato ad un'azienda dove ancora non ha maturato le fere e l'azienda per qualche motivo chiude il lavoratore viene messo cosiddetto in stand by nel periodo in cui l'azienda ha chiuso ok? e questo vedremo cosa comporta se il lavoratore è somministrato in un APL con contratto a tempo indeterminato allora le festività le festività vengono accolate moltiplicate l'ario lavorativo giornaliero per la paga oraria questo come l'azienda normale chiaro? cioè le festività vengono pagate ok? tipo il Natale primo dell'anno se il Natale primo dell'anno viene domenica viene pagata una festività doppia ok? cosa succede se a me mi scade il contratto il 24 dicembre e mi riprende il 27 dicembre mi viene comunque pagata la festività ok? purché venga rinnovato nella stessa azienda se viceversa invece si interrompe la mia mansione il 23 e 24 dicembre e riprende il 7 dicembre viene pagato il 50% delle festività maternità questo riguarda le donne lavoratrici va bene? ma può riguardare anche la paternità perché come sapete il diritto alla maternità può essere richiesto dalla mamma o dal padre ovviamente dall'uno dei due se uno richiede il padre uno può più richiedere la mamma va bene? quindi anche da un punto di vista di tutela della maternità il contratto a somministrazione prevede questa tutela va bene? innanzitutto c'è una precedenza cioè le lavoratrici in maternità che hanno precedentemente alla maternità terminato un periodo di somministrazione hanno un diritto di prelazione ad essere impiegati va bene? ovviamente con una manzione professionale dello stesso livello di quella prima della maternità chiaramente devono fare richiesta 30 giorni prima della fine della maternità stessa se però diciamo una persona che era in maternità al termine della maternità ha diritto se non gli viene proposto nessuna somministrazione ha diritto ad attività formative accompagnate anche da un sostegno in reddito come vedremo troppo cominciando parentale di possibili allattamenti mi sapete la maternità si divide in due parti si divide in una prima parte completamente resubuita che sono i primi tre mesi del bambino dalla nascita o anche nel periodo di maternità a qualora si verificano situazioni diciamo di periodo per il nascituro dopo tre mesi la mamma ha comunque diritto a un periodo di allattamento che sono alcune ore di permesso giornaliero va bene quindi comunque ha diritto a denunciati parentali ma tra un'attività facoltativa a riposo per l'allattamento siccome è previsto per la legge per l'accudimento del bambino quindi la mamma che è assunta a tempo determinato in un APL ha diritto a tutti gli effetti e agli stessi privilegi di una mamma che lavora all'interno di un'azienda a contratto di lavoro normale è fondamentale quindi non appena si ha conoscenza dello stato di gravidanza la mamma o la donna informi l'azienda dove è dipendente a tempo determinato somministrata dello proprio stato di maternità e si informi sui suoi diritti da un CAF o da un sindacato allora supponiamo che voi diciamo siete in somministrazione e andate in malattia cosa dovete fare dovete avvisare tutto l'APL l'azienda per il lavoro e poi nel terzo giorno inviare il certificato medico va bene e dovete far arrivare alla la certificazione all'APL su cui voi siete dipendenti cosa succede quando voi siete assenti per malattia allora qui bisogna distinguere due cose l'incidente sul lavoro e l'assenza per malattia l'incidente sul lavoro non prevede l'obbligo di frequenza sul mondo del lavoro scusate non prevede la reperibilità cioè voi potete essere liberi di gestire la giornata come vi pare nel periodo di diciamo in cui diciamo recuperate i benessere vero di prognosi va bene per il recupero io congedo diciamo a infortuni sul lavoro mentre se la malattia non è avvenuta nel posto del lavoro avete l'obbligo di reperibilità che sono dalle 10 alle 12 a 17 a 19 cioè potete essere può darsi e lui se vi venga a controllare se effettivamente il vostro stato di salute nel domicilio che voi avete letto ok e questi sono diciamo i periodi di reperibilità se ovviamente vengono a farvi il controllo non vi trovano nel domicilio che voi avete letto può capitare che vi venga tolta l'indemnità di malattia allora il trattamento è un omio nel periodo di malattia scusate allora è previsto il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia a totale a caro dell'agenzia in quanto non indonizzata dall'INSE cioè l'agenzia per il lavoro è obbligata a pagarvi i primi tre giorni di lavoro il 75% della normale retribuzione giornaliera dal quarto a ventesimo giorno pagata dall'APL il 100% della normale retribuzione dal 21 giorno in poi dall'INSE che è integrata dall'APL cioè l'INSE mette il 75 e l'APL integra la parte rimanente ok fino al raggiungimento del 100% così come nel 75% pagata dall'INSE e poi integrata dall'APL cosa succede posto non tratto di lavoro se nel periodo diciamo di non siete a tempo indeterminato siete a tempo determinato nel periodo diciamo in cui è in essere in contratto in somministrazione voi andate in malattia va bene allora si ha innanzitutto la garanzia del mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare o perlomeno se siete a tempo indeterminato avete l'obbligo hanno l'obbligo di mantenervi il posto se siete a tempo determinato chiaramente alla scadenza del contratto ovviamente cade anche il vostro diritto va bene allora l'osservazione del posto può essere prolungata su resta di lavoro per un ulteriore 120 giorni come aspettativa senza restituzione sempre siete a tempo indeterminato quindi per un massimo di 600 giorni 180 retributisi 120 no ok in ogni asa questa malattia termina una scadenza del contratto di lavoro se voi non avete un tempo indeterminato ma avete un tempo indeterminato come scade il contratto termina ovviamente il diritto alla restituzione infortunio sul lavoro quello detto prima non ho più malattia ma infortunio cioè mi faccio male durante l'attività lavorativa viene ritenuto anche infortunio lavorativo se mi infortuno faccio il certo la macchina mi trova da lavorare un mese torna a casa ovviamente qui c'è tutta una letteratura che stabilisce il percorso più breve per andare a casa a seconda di dove mi faccio male è difficile entrare in questa materia poi diciamo è materia spesso anche di vertenze sindacali in generale però non parliamo di infortuni di lavoro in generale va bene quando è riconosciuto infortunio sul lavoro va bene quando diciamo io sono infortunio va subito dalla notizia anche di la ventità sia alla PL che all'utilizzatore la giornata in cui avviene infortunio è pagata per intero successivamente la PL integra l'IMSE in misura del 100% della retribuzione come detto nell'infortunio sul lavoro non è prevista la fascia di reperibilità se voi siete liberi sia al termine del contratto di lavoro che io sono contratto a tempo determinato mi scade a fine mese e la malattia invece mi dura più giorni ho diritto comunque a richiedere un'indennità all'IMSE penabilità al lavoro perché non sono in grado di poter andare a lavorare ok quindi finché non risorno idoneo ho diritto a un'indennità ok pagata direttamente dall'IMSE un attimo attacco la corrente ok eventuali assegni a nucleo familiare allora l'assegno che sapete oggi è stato un po' modificato l'assegno familiare e viene dato in base anche alla fascia di reddito e anche per i contratti somministrazione vale lo stesso diritto si compilano un opportuno modulo consegnato all'agenzia per il lavoro che pagherà l'assegno direttamente in busta paga ok permessi studio anche a quanto riguarda diciamo i lavoratori in somministrazione è previsto permessi studio cioè se uno sta facendo l'università e sta lavorando ha diritto ad avere dei permessi per studiare allora come prima abbiamo detto dopo un certo periodo 24 mesi o comunque dopo sei rinnovi di contratti a tempo determinato l'APL ha l'obbligo o diciamo di assumervi a tempo indeterminato questo è diciamo il decreto 81 del 2015 e qui diciamo è quello si prevede la trasformazione in tempo indeterminato se il contratto lavora a tempo determinato anche in somministrazione prosegue informalmente oltre il trentesimo giorno il contratto di durata fino a sei mesi oltre il cinquantesimo giorno il contratto di durata a sei mesi la durata massima del contratto di lavoro a termine di un pensativo di proroghe e rinnovi è fissata alle 24 mesi oltre le termine il contratto si considera al tempo indeterminato va bene quindi se l'APL vi fa contratti di lavoro ripesuti che ovviamente oppure che durano per più di sei mesi allora si è cambiata a me mi hanno mandato questo materiale ora il dettaglio che mi sta chiedendo non so se è vero questo magari poi lo approfondisco meglio e te lo faccio sapere però questo è quel materiale che io ho dall'azienda dalla Furitto che tu vedi dall'azienda per il lavoro quindi io mi attengo a questo poi ripeto se c'è una piccola modifica magari chiedetelo o magari andate in altri dati e chiedete un film ma magari è vero capite però il concetto che è quello che se voi avete un contratto di sei mesi e lo prolungano cioè dopo sei mesi automaticamente diventa informalmente un contratto a tempo indeterminato tutto questo è con l'APL ovviamente non con l'azienda in cui andate somministrati cioè sempre l'APL cioè se l'APL vi impiega un contratto di lavoro più lungo di sei mesi all'obbligo di assumervi a tempo indeterminato ma l'APL ok come vedremo andando avanti con questa spiegazione il contratto a tempo indeterminato dell'APL vi tutela in maniera diversa rispetto al tempo indeterminato da un'azienda ok ma lavoravi ma lavoravi ma lavoravi attraverso un'APL o lavoravi direttamente e secondo me tu avevi diritto a rinnovare se tu andavi da un sindacato tu avevi diritto che ti completissi il contratto a tempo indeterminato cioè sono diritti che non è che scattano automaticamente capito sono diritti e nascono se te li fai valere senza interruzione e secondo me se tu andavi da un sindacato avevi diritto a convertire il tuo tipo di lavoro in a tempo indeterminato questo vi è sul centro del sindacato io penso che il diritto non si prescriva almeno in certi periodi o si brevi è nostro se ti hanno fatto 3 e 3 e va bene è un tuo diritto tuo diritto se te ne hanno fatti uno per più di 6 mesi tutto continuativo se ti hanno fatto 3 e 3 fino a 24 mesi o se ti rinnovi non hai diritto capito se te lo interrompono se te lo interrompono se te ne fanno uno solo per più di 6 mesi allora ti devono fare a tempo indeterminato ma se te ne fanno 2 o 3 mesi rientrano nei 6 contratti o nei 24 mesi per cui non hanno l'obbligo quello che è importante per quanto si riguarda avendo già una storia di contratti a tempo somministrato i diritti si cumulano cioè non è che ora l'azienda se te cambia APL questa puoi cominciare da capo i contratti è già abuso ma APL ti fanno numero cioè se te hai già abuso 3 contratti a tempo determinato un'altra APL ora questa APL qui ti può fare solo 3 contratti non te ne può fare più di 3 inoltre se te hai già maturato più di 18 mesi di contratti a tempo di somministrazione l'azienda ora nuova ti può fare solo 6 mesi di contratto di somministrazione dopo ti deve assumere a tempo indeterminato chiaro? poi ora poi dopo lo vedremo il personale a contratto somministrato ha dei diritti anche nell'azienda dove ha lavorato cioè l'azienda dove ha lavorato quando decide di assumere qualcuno deve dare assolutamente la precedenza ai lavoratori somministrati non può assumere uno che non ha mai non ha mai lavorato a quell'azienda prima deve attingere al personale somministrato ovviamente per manzioni e per collenti se uno cambia manzione no ma per la stessa manzione tua non può assumere uno deve dare la precedenza ai somministrati questa è un'altra cosa che spesso magari va fatta valere attraverso il sindacato perché a priori l'azienda non è che la rispetta chiaro anche se ora siamo in un periodo di crisi di ambiente lavorativo e quindi ora magari il lavoratore trova più facilmente magari lavoro perché ora veramente siamo in un periodo in dove la domanda di lavoro è minore rispetto all'offerta cioè più offerta che domanda quindi c'è molta ricerca di manodopera soprattutto se la manodopera è un minimo specializzata scusami come la parola nell'edilizia dici? allora nell'edilizia questa cosa è un po' particolare perché l'edilizia è gestita dalla cassa edile che prevede per l'azienda diciamo in edilizia di versare tutti gli anni hanno una parte di contributi che hanno il compito di compensare le giornate lavorative non lavorate per colpa del maltempo però di preciso come si trasforma questo diritto nell'APL non te lo so dire io penso che comunque al momento dell'APL questo comunque avrò modo di chiederlo magari anche dopo quando facciamo una cosa fa una telefonata e ti do la risposta che quando te viene assunto per viene somministrato in un'azienda edile tu subentri a tutti i diritti cioè i giorni e te non hai lavorato nell'azienda per motivi di pioggia tu hai diritto comunque alla restribuzione come abbiamo visto prima e quindi un po' dopo chi te la paga se l'APL o l'azienda edile questo non te lo so dire però te come lavoratore sei addiritto alla restribuzione perché tu subentri in tutti i diritti dell'azienda dove vai a lavorare quindi se nell'azienda edile il diritto è che se piove ovunque la giornata viene restribuita te tu vieni restribuito questo è sicuro però poi magari il meccanismo di chi te la deve pagare se lo faccio sapere ok questo è quello che dicevo prima incentiva l'assunzione a tempo determinato a premetto e verso l'undici e un quarto vi faccio fare un'altra fase ad un quarto d'ora venti minuti ritengo giusto visto l'importanza dell'argomento e siete ben lucidi magari mi immagino che non siete abituati a subire bombardamenti di parole per più di un'ora se non vi resta in capo niente quindi preferisco che le cose quando ve le dico vi restano ben impresse anche perché si parla dei vostri diritti e doveri quindi è giusto che vengano appesi molto bene allo scopo di favorire la trasformazione dell'assunzione a tempo determinato dei contratti di lavoro o le APL il nuovo consiglio nazionale lavoratore ha stabilito agli incentivi indirizzati all'agenzia 750 euro al lavoratore per un massimo 36 mesi erogabili ogni 12 mesi quindi se vi vengono assunti se venite assunti a tempo determinato l'agenzia ha un beneficio come visto nel caso dell'agenzia vi assuma a tempo indeterminato viene stabilito un contratto di lavoro quadro viene fatto un lavoro quadro e poi per ogni lavoro dove voi venite somministrati viene fatta una lettera di assegnazione cioè venite di volta in volta assegnati ad aziende diverse o anche alle stesse aziende ok tempo indeterminato e disponibilità cosa succede se voi venite assunti da un APL a tempo indeterminato a questo punto e cosa può capitare può capitare che giustamente l'APL abbia a disposizione aziende che innanzitutto attingono grazie alla flessibilità d'orario abbiamo visto nella prima parte ad orari di lavoro in certi periodi dell'anno e in certi periodi dell'anno no magari i periodi di flessibilità sono modulari cioè l'azienda ha bisogno di aumento delle ore di lavoro e quindi delle somministrazioni per compensare l'aumento di lavoro tra giugno luglio agosto un'altra azienda B ne ha bisogno nel periodo invernale settembre ottobre novembre mi immagino le strutture ricettive tipo turisti hanno più bisogno giugno luglio agosto e settembre aziende di produzione hanno più bisogno tipo quelle della moda settembre ottobre novembre cosa succede? succede che potete essere somministrati a due aziende diverse due aziende diverse che hanno esigenze d'orario lavorativo completamente diverso quindi voi vi potete trovare nel corso dell'anno a modificare la vostra diciamo il vostro impiego orario di lavoro quindi nasce la disponibilità vero? cioè voi è il momento che potete essere diciamo chiamati a lavorare sette giorni su sette o meglio a scelta nelle ore previste quaranta ma sette giorni su sette cioè non da lunedì a venerdì oppure nelle fasce orarie più diverse non solo dall'otto alle cinque vi viene richiesta la disponibilità oraria in base a questa ovviamente viene proposta una somministrazione chiaro? quindi quando è e qui vi dicono in caso di assunzione a tempo indeterminato per essere agenzia e lavoratore durante il periodo in cui uno svolge prestazioni lavorative cioè se siete impegnati bene se avete un contratto di somministrazione una fascia oraria quando non siete impegnati siete comunque dipendenti di un'agenzia per il lavoro va bene? e quindi voi siete a disposizione per la somministrazione e vi viene comunque pagato tipo una un'anaspi tipo una disoccupazione quindi non è una disoccupazione perché ovviamente siete a tutto tondo assunti nell'azienda per il lavoro percepite però l'indennità appare a settecentocinquante euro mensili è come fosse un'asta integrazione eh? all'ordo delle regioni di legge comprensione TFR pagata all'appiente va bene? quindi cosa succede? se nel mese lavorativo fate una missione parziale prendete la missione parziale nel periodo lavorato nel periodo non lavorato si calcola la percentuale di settecentocinquante euro quindi lavorate quindici giorni non avete diritto a settecentocinquante euro non avete diritto a trecentocinquante euro in caso di lavoro parte del mese i lavoratori saranno risposti a tanti rati dell'indennità generiera quanti sono giorni di disponibilità residui e quello abbiamo diritto in caso di lavoro part time l'indennità riparata è automaticamente trecentocinquante euro va bene? trecentocinquante euro ovviamente l'ordine ovviamente cioè se vi fanno un part time invece di cinquanta per cento di trenta per cento avete comunque diritto ad un'indennità di trecentocinquante euro non può essere infatti a trecentocinquante euro quindi se fate un part time di settanta per cento non è che vi danno il trenta per cento di settecentocinquante euro ma a meno di settecentocinquante euro non ve li posso notare ok? allora inoltre nel periodo di lavoro che siete assunti nel tempo indeterminato dall'APL avete comunque diritto alle ferie riposte riduzione di orario svedicesimo e quattordicesimo a mezzo di gioco il lavoratore deve rimanere riperibile del male normale orario di lavoro previsto dal contratto ed è tenuto a iniziare il lavoro nelle 24 ore successive cioè se io so a tempo determinato un'APL e in questo momento non ho una somministrazione devo essere peribili però nelle 24 ore cioè mi possono chiamare e domani devo prendere servizio ovviamente al di fuori del periodo di ferie che io ho stabilito cosa succede se manca un'occasione di lavoro e sono assunto a tempo indeterminato va bene allora l'APL inizia una procedura che punta alla ricollocazione della quale lo stesso lavoratore deve essere informato ovviamente il lavoratore viene informato dall'APL che è in un periodo di ricollocazione va bene bene cosa succede in questo periodo in questo periodo prevede diciamo un percorso di riqualificazione professionale magari si cerca di professionalizzarlo su una materia diversa da quello in cui il lavoratore originariamente è formato per permettere al lavoratore di avere una maggiore opportunità di impiego va bene oppure diciamo iniziative di rivoluzione presso imprese utilizzatrici va bene durante il periodo è corrisposto un compenso di 850 euro quindi si incrementa il compenso per un periodo di 6 mesi 7-6-850 euro con la speranza di rivoluzione il lavoratore quindi come vedete l'APL ha comunque l'obiettivo di tenere il lavoratore impiegato va bene cosa succede se malgrado il periodo di rivoluzione non viene trovata l'opportunità di lavoro se durante la procedura di rivoluzione il lavoratore viene rivoluzionato un missione di rivoluzione fino a 12 mesi la missione si sospende e riprende per completare il percorso al termine della durata scusate un attimo quindi se nel periodo di rivoluzione viene trovato l'impiego di lavoro si interrompe la rivoluzione si fa il lavoro ai termini del periodo di lavoro e su amministrazione e si riprende l'attività di rivoluzione se invece il contratto lavoro dura più di 12 mesi fino a 14 la rivoluzione anche se era rimasto due mesi deve comunque durare tre mesi almeno tre mesi se invece io vengo impiegato per più di 24 mesi l'eventuale rivoluzione si sospende se avevo fatto già tre mesi e comunque vengo annullato e si rivoluzione da capo e può durare o sei o sette mesi se sono otto cinquantenne cosa succede invece se io fuori la rivoluzione e non vengo riempiegato va bene è previsto che terminati i 6-7 mesi di rivoluzione se ovviamente il lavoratore non viene riempiegato è giusta causa di licenziamento questa è un po' la differenza diciamo della sussera del contratto lavoro a tempo determinato rispetto al contratto lavoro a tempo determinato come un'azienda a tutto comune cioè in questo caso l'APL a differenza magari dell'azienda vera e propria ha diritto anche alla all'interruzione del rapporto di lavoro se dopo sei mesi ha fatto la rivoluzione non è riuscita a trovare un impiego una somministrazione per il lavoratore è giusta causa di licenziamento ok bene allora grazie a tutti